Il controllo per la trasformazione, infatti voglio ricordare che questa è delle scuole primarie, ecco quindi ancora in questa occasione scuole primarie, quindi in questa edizione a questo perché c'è il trattato da scomento, ecco che è stato sviluppato alla presenza dei vigili del fuoco, è un percorso che le darmi e i professori potranno accedere al cortile e prendere parte a questo periodo. Non sono all'interno, voglio ricordare che trattandosi di una seduta queste scuole primarie ci sono solamente quattro relazioni, quindi le raccoglieremo come al solito nei governi consigliari. Il direttore regionale del lavoro, Nicola Costa, per l'inaenza, tutte le relazioni che avvicinano, che per motività non saranno finnato, è stato realizzato direttamente dalle scuola desce. Successivamente come ricordata che ci sarà un... Sono Raffaele, è bello, vedi che il sindaco adesso... Nel 2012, che sono stati 820, c'è stata un trend di forte contrazioni. Le due voci, l'azione di investimento di tutto il mio, che si svolge, ha gli organi che fanno controllo e vigilanza. Sono loro, non si può guardare praticamente, sono loro una ripresa recentemente stipulata. Formate le giovani generazioni, gli alunni delle sue... Sì, sono loro, non si può guardare, non si può guardare, non si può guardare, non si può guardare. Sì, sono loro, non si può guardare, non si può guardare. Sì, sono loro, non si può guardare, non si può guardare.